Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini, Margherita e Andrè. L'annuncio nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio, via Instagram. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andrè, la vostra vita è appena iniziata. Tiziano Ferro non ha chiarito quali siano state le modalità con cui è iniziato il percorso genitoriale. Adozione, procreazione assistita, maternità surrogata, ma ha precisato di voler tenere questo dettaglio per sé, chiedendo ai fan di rispettare la privacy dei due bambini. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e Andrè. L'impegno di Tiziano Ferro e Victor Allen comincia dunque così. L'esperienza da genitori è il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. E su quelle che sono le origini dei due bambini, Tiziano Ferro promette, saranno solo e soltanto loro a decidere quando e soprattutto se condividere il racconto della loro vita. È giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.